con Omar Cissé, Omar abbiamo dovuto aspettare tre giornate per la squalifica per questo gol però gol importantissimo oggi. Sì, gol importante, peccato per il risultato finale e un po' diciamo rammarico che non abbiamo portato a casa i tre punti, però vabbè, sono cose che succedono e cerchiamo di imparare da questi errori. Come è stato guardare da fuori la tua squadra quindi non poter contribuire a dare una mano ai tuoi compagni in questo ultimo periodo? Guarda, da fuori è sempre difficile per qualsiasi giocatore, anche soprattutto con Castellanzese, soprattutto da casa che vedi i tuoi compagni giocare e non riesci a dargli una mano. Però niente, ora che siamo tornati cerchiamo di riprenderci quello che abbiamo perso. E poi lì in mezzo, quando sei rientrato, anche un po' di novità, perché oltre a Brighenti che oggi ha debuttato, fareste avanti, poi Prandini come il tuo compagno lì al centrocampo, una clevenza un po' cambiata in questo cambio tra andata e ritorno. Sì, abbiamo un po' cambiato e niente, come Prandini e Brighenti ci daranno una mano e cerchiamo di fare un bel girone di ritorno dai. Grazie. Grazie.